Gazebbi, scale e discese a mare in diverse zone demaniali della provincia di Agrigento sottoposte a sequestro da parte della Guardia di Finanza. In particolare al termine dell'attività di monitoraggio della costa con l'ausilio delle unità navali sono state individuate diverse opere abusive realizzate sul pubblico demanio marittimo. Gli agenti della Guardia di Finanza della tenenza di Porto Empedocle, coordinati dai colleghi della Compagnia di Agrigento, hanno attenzionato numerose opere eseguite dai proprietari di alcune residenze per realizzare tra l'altro scalinate e punti d'ormeggio. I lavori, così come hanno accertato i finanzieri, hanno comportato lo sbancamento della scogliera. 15 le opere abusive scoperte e 10 le persone denunciate, mentre altre 10 persone sono in corso di identificazione. A tutti sono stati contestati reati di occupazione abusiva di demanio marittimo, distruzione e deturpamento di bellezze naturali, realizzazione di opere edilizie in assenza di licenza per costruire in zone sottoposte a vincolo paesaggistico. Le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Agrigento tendono a individuare ulteriori responsabilità.